voi avete fatto anche degli oggetti sì esatto una piccola collezione che si chiamava prima produzione perché non avevamo l'ambizione soprattutto non avevamo nei mezzi eccetera eccetera per fare come dire una produzione di design ma chiedevamo delle cose un po particolari esattamente come chiediamo i progetti dei libri ad alcuni amici designer e che erano una preproduzione facevamo in pochissime coppie in poche coppie poi magari poteva essere presa da un'altra azienda perché portata avanti in maniera diversa o da noi per fare qualche altra cosa è complicato è stato complicato a un certo punto seguire tutti e due per cui è stata un'esperienza che però ogni tanto con qualcosa rifacciamo non so per esempio noi facevamo abbiamo fatto per alcuni anni e continuiamo a fare il book show divertissima la fiera di torino è un anno poi non le abbiamo utilizzate la cosa divertente quella loro hanno scelto un altro avevano già scelto un'altra cosa ma noi dovevamo bisogno di andare a fare queste 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 mostre che sono i famosi banchetti si chiamano no dicevamo se abbiamo chiamato paolo uli e abbiamo detto paolo ma noi non abbiamo voglia di girare con robe devono essere facili e lui ci ha inventato una fantastica piccola libreria che si chiude ad ombrello ah bellissimo bellissimo la vedi a milano in libreria da noi allora ci piace ogni tanto dare queste questi stimoli input che magari sono cose che servono al momento a noi ecco quella poi è bellissima però me le hanno tutte portate via non ce la avete più neanche l'archivio finito no 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 ci sono la sede di milano qui una volta è arrivato uno di dubai che ha voluto comprarle a tutti i costi le abbiamo un po spostate in giro ma io la volevo casa mia in montagna che per me è la casa e l'anno ce l'ho